Questa settimana, tra pochi giorni, 10 di ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale ed è tradizione che mi guarda in queste occasioni organizzi degli eventi per discutere del tema tutela della salute mentale. Quest'anno la Giornata della Salute Mentale è dedicata al tema delle inegualità che ci sono nel mondo rispetto all'accesso ai trattamenti per le persone che soffrono di salute mentale e credo che Niguardia faccia ogni sforzo, intanto per dare delle risposte alle persone che hanno bisogno ma soprattutto anche per favorire la discussione con le istituzioni, con gli stakeholder, con gli esperti su come poter migliorare le cose perché le persone che soffrono di salute mentale a Milano, in Lombardia e in Italia possono avere più risposte e più trattamenti appropriati perché ce n'è bisogno per evitare che le persone rischino di avere malattie gravi e non curate.